Ciao a tutte, oggi andremo a realizzare uno scrub delicato per il corpo, tonificante e nutriente. Vi mostro la ricetta. Allora, per prima cosa dobbiamo andare ad inserire l'olio di vinaccioli. L'olio di vinaccioli è un tonificante, quindi ve lo consiglio moltissimo. Potete anche utilizzare un altro tipo di olio, che può essere l'olio di cocco, l'olio di mandorle, anche l'olio extravergente d'oliva. Andiamo a metterne quindi 10 grammi. Dopodiché andiamo a inserire il miele. Miele è sempre 10 grammi, è circa una cucchiaia e mezzo. Io utilizzo questo che ho comprato a Basilica quest'estate in Grecia, è biologico, è completamente naturale. Buonissimo da mangiare soprattutto, però io adesso non ne ho uno commerciale, quindi userò questo. Potete tranquillamente inserirne uno normale da supermercato, perché insomma per lo scrub va benissimo lo stesso. Quindi andiamo a metterne 10 grammi. Ora invece andremo a mettere i 3 grammi di olio di avvocato. Io ho scelto l'olio di avvocato perché rende la pelle molto molto lucida e è molto nutriente. Allora adesso andiamo a inserire i 30 grammi di farina di cocco. Il cocco, la farina di cocco, consente di avere un risultato un po' più leggero come scrub, differentemente se utilizzate il sale grosso, lo zucchero o i sali del mat morto. Potete altrimenti, se vi trovate meglio oppure non avete la farina di cocco, utilizzare anche la polvere di shikakai. Però in quel caso io vi consiglio di inserirne 10 grammi. Ok, adesso andiamo a metterlo. Allora, questo è il risultato finale. Se lo preferite un pochino più liquido, potete aggiungere un po' di olio di semi di vinaccioli. Io lo preferisco così, perciò insomma non le aggiungerò. Mi raccomando, affinché si conservi per un po' di tempo, vi consiglio di avere sempre le mani assurte quando lo prelevate dal contenitore. E niente, adesso andiamo a inserirlo nel contenitore e vediamo qual è il risultato finale. Ecco qui, questo è il risultato finale. Ve lo consiglio tantissimo perché è delicato, non vi fate male soprattutto. E vi lascerà la pelle veramente veramente morbida. Anche perché il cocco è veramente molto nutriente, in più abbiamo il miele che fa sempre un'azione molto idratante, il vinaccioli tonifica, l'avocado illumina la pelle. Io vi ringrazio per aver seguito il video, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!